Uno di voi, Soleil Davide, sta per diventare il terzo finalista del Grande Fratello. Un altro dovrà uscire immediatamente. Il pubblico ha deciso che a raggiungere l'ambitissima finale di questo Grande Fratello VIP è... Il pubblico. Il pubblico ha deciso che a raggiungere il terzo finalista del Grande Fratello VIP, Davide! Grazie! 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 Grazie!